Continua il libro Donne senza nome di Cesare De Simone che cerca di ricostruire l'episodio di quel 7 aprile 1944 dove vennero uccise dieci donne al ponte dell'industria, ponte di ferro come chiamato dai romani. Siamo arrivate alla ventiseesima lettura del libro Donne senza nome a cura del Comitato delle Fate. La ricerca iniziò per dare un volto a queste donne dopo aver letto questo libro. Siamo arrivati alla ventiseiesima lettura, la parte più importante, forse fantasiosa, ma comunque importante per vedere la ricostruzione che fa Cesare De Simone al quale siamo molto grade. La donna numero tre, quella notte che precede la sua uccisione, non ha dormito bene. Ha 43 anni e tre figli di 4, 6 e 7. Sarebbe stata fucilata tra poche ore al ponte di ferro dell'Ostiense, ma lei non può immaginarlo quando verso le 6 del mattino, sbadigliando, mette sul fornello a carbone la cuccuma del caffè, appena l'acqua bolle vi versa due cucchiai di surrogato leone. Una miscela verdognola che i romani hanno subito ribattezzato cicoria, perché emana un odore aspro sgradevole di terra, di terra proprio come la cicoria non capata. In cucina la raggiunge la madre. Stanotte to' intesa rigirà nel letto, te sei rigirata un sacco de' volte, dice l'anziana. Non ho proprio chiuso l'occhio, fa la donna numero tre. Quann'è che vai? Me bevo sta sorzata de sto bibidone callo e sorto, 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 c'ho appuntamento con l'artre sotto l'arcata della ferrovia. Arpiazzale, guarda che peli i ragazzini, c'è mezzo litro di latte. L'ho preso ieri da Iole, ci pensi tu a scallarlo? La madre, accennasi col capo, Iole è una di loro. È la vicina di casa, che fa la borsa nera. E quanto può la donna numero tre va da lei a comprare un po' di latte per i bambini? O un pugno di farina? Ormai, coi tagliandi della tessera, non distribuivano né latte, né burro, né carne da due mesi. Farina e zucchero non ne davano invece da uno. Due settimane prima c'era stata la distribuzione di un uovo a testa, era stata l'ultima volta l'unico alimento che di solito arrivava tutti i giorni, era il pane. Ma le code davanti ai fornai si facevano estenuanti, sfidatini, tozzi, scuri, che diventavano subito durissimi. Ne toccavano 80 grammi a persona, un'ostia, diceva sospirando la donna numero tre. Dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, venti giorni prima, i tedeschi avevano infatto ulteriormente ridotto il pane che prima era 100 grammi. Con un'ordinanza del generale Marzer, comandante la piazza di Roma, a punizione dei romani che ormai apertamente parteggiavano per gli uomini della resistenza, in una sorta di alta marea antidedesca, di flusso silenzioso e furente, ma erano sempre più rare le volte che la donna numero tre poteva bussare alla porta degli ole perché il suo lavoro di lavandaia rendeva assai poco in quei tempi. L'acquisto della borsa nera restava un sogno proibito, abitava in fondo a donna Olimpia. In una casupola a Villa Panfitti, poverina, non vi commuovono queste cose a voi? Era vedova, suo marito era morto nel 39, in un incidente sul lavoro nel cantiere Edile dove faceva il capomastro. «Non li sveglia», dice la madre, accennando con la testa alla stanza dove erano i figli. «Fida anche dormono. Io vado, tranquilla. Almeno non sentono la fame. Era la cosa che più la accorava. Quando?» Vedeva che chiedevano da mangiare. Il pane che non c'era e lei non poteva farci niente. «Se non rispondere di aspettare. Intanto fatevi bravi. Bevetevi un po' d'acqua. Assorzate lunghe, mi raccomando, che ve leva la fame». E di lì aveva pazienza, che adesso lei avrebbe provato a racimolare qualcosa in giro. «Mamà, io vado». Questa è la prima donna che lui immagina, perché questa è un'immaginazione, che ne sa lui di quello che è successo, di queste donne. Abbiamo dieci nomi, ma non si capisce bene poi questi dieci nomi, chi erano veramente queste donne. E questa ricerca serve proprio per dare un volto a queste donne. E noi potremmo anche leggere queste pagine il 7 aprile, dopo tanti anni di ricerca.